Sabato non posso essere con voi per la partita, in quanto precedentemente avevo preso un impegno molto importante, sabato alle 19 si sposerà un importante sportivo livornese, un pugile che è anche mio caro amico e mi aveva chiesto qualche tempo fa come regalo che fossi io a celebrare il suo matrimonio in comune al posto del sindaco, quindi alle 19 sarò a Livorno per questo impegno molto importante, è chiaro ci teniamo tanto a essere lì con voi e il mio cuore sarà diviso in due, una parte sarà a Bari, quel cuore che Bari ha dimostrato di avere grandissimo nei confronti della sua squadra, siete stati straordinari, meravigliosi, incredibili e quindi so che verrà mostrato anche in questa occasione, in questa circostanza per una partita di beneficenza dove ci saranno tanti giocatori vecchi magari un po' più lenti rispetto ai nostri ragazzi di oggi vista l'età che però come sapete meritano il vostro affetto e la vostra stima come avete sempre dimostrato di fare, io non posso far altro che mandarvi un grandissimo saluto ma soprattutto sempre un grande Forza Bari, ciao a tutti, ciao!